Il maltempo continua a causare danni, strade e case allagate. Lanzi accusa Biancani di fare politica per l'immagine, il sindaco risponde. Ruggeri e i Cinque Stelle e scontro con la regione chiedono una sanità omogenea. Crisi idrica, la pioggia non salva i fiumi, l'entroterra ancora a secco. Le serigrafie a cielo aperto di Dolcini fanno sold out, il meteo non ferma l'evento. Un saluto a tutte le telespettatrici e telespettatori di Rossini TV e ben ritrovati con questo telegiornale di martedì 20 agosto che apriamo nuovamente parlando del maltempo e delle piogge che hanno riguardato soprattutto la città di Pesaro causando non pochi disagi tra strade chiuse e alberi caduti. Continua il maltempo nel Pesarese con un'incessante pioggia che si è abbattuta sulla città dalle 3 del mattino di ieri fino al primo pomeriggio di oggi. Una vera e propria bomba d'acqua si è scagliata sulla città di Rossini obbligando così l'intervento di vigili del fuoco, centro operativo e polizia locale già dalle 5 del mattino specialmente nella zona di Villa Caprile. La causa? Un distaccamento di terra dal terreno della scuola causante detriti sulla strada statale 16 motivo che ha portato alla chiusura della statale adriatica in direzione sud-nord da via Milano fino a Santa Maria delle Fabrice. Una situazione sotto controllo ma le cui criticità vanno comunque monitorate anche perché il movimento franoso ha interessato vie perpendicolari alla statale e il fango ha ricoperto tutta l'Adriatica fino a raggiungere le case sul lato opposto di Villa Caprile. In particolar modo le zone di via Sabotino, Lucio Accio e alcuni dei garagi privati in via Bologna. La bomba d'acqua ha causato inoltre alcuni problemi anche al centro sociale di Vismara e soprattutto ai vari sottopassi della città come ad esempio quello di Loreto che è stato chiuso in seguito alla forte pioggia poiché l'acqua non ne permetteva la percorribilità. Così come impossibile era percorrere altre zone della Pesarese soprattutto dirigendosi verso l'area che riguarda l'istituto alberghiero partendo dalla scuola stessa fino a passare alla ciclabile situata alle sue spalle praticamente cancellata dalla vista a causa della mole d'acqua che l'ha ricoperta. Stesso discorso per il cantiere dell'ex chief che trovandosi sottolivellato a causa dei lavori si è trasformato in una vera e propria piscina. Il maltempo ha anche riguardato altre aree della città come il retro della zona coppo o provocato la caduta di diverse piante e alberi. Una situazione che dunque continua ad essere attenzionata e monitorata per ristabilire al più presto la viabilità ma soprattutto la sicurezza. Prima di passare al prossimo argomento ringraziamo i tanti telespettatori che ci hanno inviato numerose immagini nella giornata di oggi segnalandoci tanti luoghi vittima di questa intensa pioggia e vi ricordiamo che come sempre avete la possibilità di mandare alla redazione di Rossini TV le vostre segnalazioni al numero Whatsapp 370-3667-210. Passiamo ora al prossimo argomento che riguarda sempre il maltempo di questi giorni che non ha recato danni solo nel Pesarese poiché purtroppo anche a Urbino la pioggia si è fatta sentire a tal punto da costringere alla chiusura dell'archivio di Stato che ha sede presso la Scuola Pascoli in pieno centro storico. Le raffiche e il temporale infatti hanno portato al crollo di decine di tegole costringendo dunque i vigili del fuoco a chiudere l'accesso all'aria che in accordo con il Comune sarà consentito solo ai residenti. Dal maltempo alla politica focalizzandoci su un dibattito che continua a far discutere in questi giorni dove il consigliere d'opposizione Marco Lanzi accusa il sindaco di Pesaro Andrea Biancani di pensare più ai social che ai contenuti. C'è un filo comune che lega Ricci e Biancani perché una delle accuse che abbiamo sempre fatto anche a Ricci che la sua attività era basata molto sull'apparenza, sull'immagine e quando la politica dell'immagine prevale su quella dei contenuti e secondo me è assolutamente sbagliato. In questo senso un po' Biancani sta facendo una cosa molto analoga nel senso che se guardiamo le sue pagine Facebook vediamo che ogni giorno lui pubblica 4-5 interventi, foto perché chiaramente al fine non solo di pubblicizzare di avere tanti like ma di dare una certa immagine. Ma la politica deve essere fatta di contenuti non di immagine e questa è secondo me la cosa più importante che bisogna sottolineare. Anche perché ormai la campagna elettorale è finita e tante cose lo dimostrano. Possiamo vedere che anche Pesolo sotto certi aspetti è stata gestita da questo centro sinistra soprattutto sotto l'aspetto dell'immagine. Molti soldi pubblici sono stati spesi per una biosfera che adesso nessuno sa dove piazzare, nessuno sa dove mettere. Inoltre è emblematico per quanto riguarda l'intervento che il sindaco Biancani ha fatto su Rocca Costanza. Sono contento, siamo tutti felici che sia stata aperta. Durante la mia campagna elettorale io l'ho ripetuto mille volte Rocca Costanza va aperta perché è come se noi tenessimo chiuso a Milano il Castello Sforzesco. Quindi in questo diamo atto al sindaco Biancani che ha fatto una cosa giusta. Ma è incredibile che questa cosa sia stata pubblicizzata soprattutto facendo vedere la cella dove è stata rinchiusa Vasco Rossi. Che segnali diamo anche ai nostri giovani? Che la cultura quella è importante a Rocca Costanza solo perché Vasco Rossi è stato 20 giorni dentro una cella all'interno di Rocca Costanza. Rocca Costanza ha la più importante fortificazione nella nostra città, ha una sua cultura, ha una sua identità. Ha veramente un valore simbolico, architettonico molto molto importante. E' questo che dobbiamo far passare. Un messaggio di cultura, non un messaggio di immagine. Immediata la replica di Biancani a Lanzi che afferma invece di essere un sindaco presente e vicino ai suoi cittadini. Io devo dire che il ruolo di Biancani, cioè mio, è come ho vissuto, come vivo la parte politica e l'amministrazione, lo sapevano tutti. Io sono un amministratore presente. A questo i cittadini piace perché sapere che il sindaco è a disposizione e comunque fa una vita normale nella città, è presente alle iniziative, è presente, si viene fermato per la strada, è comunque un sindaco a cui piace vivere la propria città. Adesso sentirmi dire che il sindaco è troppo presente, io penso che siamo veramente in una situazione inspiegabile. Io non ho veramente, faccio difficoltà a definirla. Io penso che nelle città qualsiasi cittadino voglia sentire il sindaco presente e il sindaco vicino. Io continuerò a fare il sindaco in questo modo, cioè ad essere vicino a quelli che sono le esigenze, i problemi, le preoccupazioni dei cittadini, ma sapendo anche rilanciare, portando avanti anche progetti che una visione strategica per il futuro. Ma ovviamente tutto questo non lo farò ovviamente da solo, ma lo sto facendo insieme alla mia squadra di governo, cioè insieme alla mia giunta, lo voglio fare insieme al Consiglio Comunale e quando parlo insieme al Consiglio Comunale ovviamente mi riferisco sia alla maggioranza e sia all'opposizione. E quindi ribadisco, come ho già fatto il primo Consiglio Comunale, dove quando mi sono insediato, ribadisco la mia volontà di voler collaborare con l'opposizione, ma anche l'opposizione deve dimostrare di voler collaborare con questo nuovo governo comunale. Rimaniamo sempre sulla politica, ma dal dibattito pesarese ci spostiamo a quello regionale con la consigliera della Regione Marche, Marta Ruggeri, che ha accusato Acquaroli e la sua maggioranza di non essere omogeneo sulla linea della sanità. A livello regionale serve assolutamente che la maggioranza metta in pratica quelle che erano le promesse elettorali, cioè la riforma dell'emergenza urgenza, per rendere i servizi omogenei a livello territoriale, perché è quello che possiamo vedere che nella nostra provincia, per esempio, non sono attive le automediche, mentre ci sono in tutto il resto delle altre province e questo serve in un momento storico in cui non ci sono medici del 118 per avere, quando serve, una prestazione che possa essere un discrimine tra la vita e la morte. E tra l'altro servirebbe anche approvare i decreti medici delegati con cui gli infermieri delle ambulanze possano intervenire per fare, per esempio, operazioni salvavita, interventi salvavita oppure contro il dolore. Tutto ciò nelle Marche ancora non è stato fatto e dovremmo prendere come esempio le regioni più virtuose e in cui il sistema del 118 funziona bene, come la Lombardia e l'Emilia Romagna, e cercare, naturalmente, tenendo conto delle caratteristiche della nostra regione, cercare di portarle e rendere più efficiente il nostro servizio. Torniamo a parlare di maltempo. Questa volta però dal punto di vista dei fiumi e del tema della crisi idrica che, nonostante le piogge degli ultimi giorni, non sembra trovare rimedio. Di fatto, se nella Pesarese sono stati abbondantemente superati gli 11 mm d'acqua, diverso è stato nell'entroterra, dove a stento si è superato in alcune zone lo 0,5. Numeri che dunque costringono a mantenere stabili i prelievi di 300 litri al secondo dal burano, affiancati dai 150 del furlo, e che dunque non fanno ben sperare chi appunto pensava in un miglioramento dato dal maltempo di questi giorni. Novità, invece, per quanto riguarda l'associazione Animalia, che per tanto tempo ha gestito il gattile di Pesaro e che ora ha un nuovo presidente. L'associazione Animalia, da sempre impegnata a sostegno degli animali nel Pesarese, ha un nuovo presidente, ovvero Andrea Marchionni, già consigliere comunale nella scorsa legislatura, che da oggi sarà impegnato a guidare lo storico gruppo che per tanti anni ha sostenuto il gattile di Pesaro. L'associazione Animalia ha rinnovato i vertici alla fine di giugno scorso. Sono stato eletto con molto onore da parte mia presidente al posto della dimissionaria presidente Gagliott. Quello che noi ci proponiamo è sicuramente di incrementare il numero di associati e di poter contribuire ancora di più alla benessere degli animali, quindi in particolare a risolvere o perlomeno a contribuire a risolvere il problema del randagismo felino, che negli ultimi anni sta imperversando nel territorio non solo comunale di Pesaro ma anche di tutto l'entroterra, diciamo. Non cambiano solo i vertici di Animalia, ma cambia anche la gestione del gattile che non sarà più affidato all'associazione, come ci spiega lo stesso Marchionni. Il gattile era stato gestito per oltre 20 anni, 23 se non erro esattamente, dall'associazione Animalia. e questo fino a gennaio di quest'anno. E' semplicemente successo che durante l'assessorato dell'assessore Morotti si è deciso che il comune voleva dare in affidamento tutti i servizi del benessere animale ad Aspes, ad Aspes Multiservizi. e Aspes ha fatto poi a sua volta diciamo i bandi per far gestire le varie entità come ad esempio anche il gattile. In effetti l'associazione Animalia aveva chiesto da anni di poter come dire lasciare la gestione diretta perché era un'opera molto difficile avendo solo volontari e non persone assunte. E quindi era difficile poter gestire tutta l'attività su tutte le ore e tutta la settimana tutte le ore del giorno e della settimana. La soluzione che il comune ha dato in concordanza anche con l'associazione Animalia è stata appunto quella di darlo ad Aspes la gestione e la gestione poi a sua volta è stata data con un bando alla cooperativa T41B che già gestisce il canile comunale da molti anni. Ma Animalia continua a dare il suo apporto attraverso i suoi volontari e volontari che non dico tutti i giorni ma comunque parecchie ore a settimana si recano al gattile per poter come dire in maniera sussidiaria operare per il benessere dei gatti per gli affidamenti. Passiamo ora agli eventi che ci attendono nella nostra provincia a partire dalla tradizionale Fiera di San Bartolomeo a Fano che si terrà dal 24 al 26 agosto e che riguarderà tutta l'area che va dall'ex anfiteatro Rastat in Sassonia fino a Largo Seneca del Lido di Fano con lo spazio della tensostruttura che in quei tre giorni dalle 14.30 alle 20 sarà dedicato alla Fiera Franca dei Bambini e dei Ragazzi. E parlando di eventi del territorio siamo andati questa mattina presso il Centro Arti Visive Pescheria dove tra la Chiesa e l'edicola si sta svolgendo l'evento dedicato a Massimo Dolcini le cui serigrafie tornano tra la gente con Pesaro 20-24. Tornano a rivivere le opere e le serigrafie di Massimo Dolcini con Pesaro 20-24 all'interno del progetto Archivi Ubiqui attraverso dei laboratori gratuiti che si svolgeranno fino al 21 agosto lungo corso 11 settembre e in caso di pioggia all'interno della pescheria un'iniziativa che riporta a Dolcini la sua arte tra la gente soprattutto tra i ragazzi come ci racconta la sua storica compagna che l'ha affiancato durante quasi tutto il suo percorso artistico. Massimo Dolcini come appunto approccio con la città nel suo modo è stato inserito nel bando di candidatura di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura sotto un macro argomento che è Archivi Ubiqui quindi finalizzando questo argomento ci è stato proposto questo spazio che è l'edicola ma poi noi abbiamo ragionato e abbiamo voluto far uscire proprio Massimo Dolcini dai suoi manifesti con una vera operazione di street art restituendo i disegni di Dolcini dai manifesti alla strada quindi in un linguaggio nuovo rispetto a quello degli anni 80 e che potesse dialogare sia con chi lo ha conosciuto ma soprattutto con le nuove generazioni che si sono molto appassionate a questa iconografia parallelamente abbiamo istituito dei laboratori di serigrafia proprio perché Dolcini negli anni della collaborazione con il comune di Pesaro con i suoi manifesti più famosi stampava in serigrafia che era diciamo legato un po' alla pop art legato a delle caratteristiche tecniche che lui ricercava e anche una tiratura abbastanza limitata perché i manifesti erano 100-150 al massimo e avevano una resa fortissima il segno serigrafico un segno inconfundibile e questa tecnica che si allontana sempre di più dal digitale quindi dall'epoca in cui tutto può essere fatto e rifatto cento volte noi invece siamo tornati come dire alle origini con laboratori estremamente materici e che hanno riscosso un grandissimo successo partecipativo quindi questa piazza che sta diventando una piazza in questi giorni e invece prima era semplicemente un transito e in questi giorni si è trasformata in una vera piazza della cultura e quindi insomma il nostro obiettivo è stato anche raggiunto laboratori che hanno attirato tantissimi pesaresi e non solo finendo in breve tempo gli slot disponibili andando sold out tuttavia c'è ancora una possibilità per partecipare a quest'ultimi ed un grande finale tutto da vivere i laboratori sono gratuiti intanto noi mettiamo la carta e da casa si può portare quello che si vuole una t-shirt uno strofinaccio una cartolina una copertina di un libro insomma qualunque cosa perché la stampa serigrafica va sopra qualsiasi supporto e ci si prenota qui all'edicola a Dolcini a questo punto i posti sono quasi terminati ma magari se uno viene abbiamo qualche in qualche modo riusciamo a inserirlo e lo inseriamo volentieri questi laboratori domani sera finiscono e alle 7 c'è un finissage quindi ci saranno delle talks parlerà ovviamente il comune di Pesaro poi ci sarà Jonathan Pierini altre persone che hanno conosciuto Massimo e lavorato con lui sarà una breve mezz'ora di racconto e poi ci sarà un DJ set un vero finissage in un spirito molto allegro come era quello di Massimo Dolcini concludiamo il Tg di oggi parlando di sport ed in particolare della situazione che riguarda il calcio fanese che è diviso in due anime una targata Fano Calcio la nuova realtà calcistica di Giovanni Mei e l'altra quella dell'Alma Fano da un lato la prima si è intanto iscritta alla terza categoria con il sindaco Ser Filippi che ha richiesto l'inserimento della società nel miglior campionato regionale possibile con la speranza dunque di partire sin da subito dalla prima categoria l'Alma invece attende il ricorso della Iesina per sapere se potrà o meno partecipare al campionato d'eccellenza in tutto questo si attende dunque la Lega Nazionale Direttanti che nel giro di pochi giorni dovrà decidere sul futuro calcistico di un'intera città e prima di salutarci vi ricordiamo gli appuntamenti qui su Rossini TV a partire da questa sera alle ore 21 e 20 con Gradara Wine Passion l'edizione del 2024 che appunto potrete rivivere con noi in televisione e poi un appuntamento che ovviamente non può mancare come da tradizione il buongiorno Rossini come di consuetudine ormai d'abitudine dalle 7 e 20 in diretta con repliche alle 8 e 20 12 e 20 14 e 20 e 18 e 20 e per il TG di oggi è davvero tutto vi ringraziamo per essere stati con noi e adesso andiamo a vedere insieme il meteo grazie a tutti grazie a tutti per aver guardato